Sì, sono tutta di caffè, giriamo? Non c'è abbastanza caffè Spiegami tu cosa stiamo facendo Allora, avevamo sonno e ci siamo fatti il caffè Poi dato che era serio, abbiamo pensato di modellare questi jeans insomma colati Perché è molto gaio, quindi va bene We have to do this because It's a film, want bourbon And we take a bourbon with coffee You know? Perché i bourbon invece di bersi il caffè se lo buttano addosso For simulare the sports sheet The bad quality of jeans Ma fai questo Tanto il tuo lavoro domani è questo, quindi non rompere Allora sto simulando praticamente i vestiti sporchi Ah, c'è freddo Come si può lavorare così? Sto simulando praticamente i lavori sporchi I vestiti sporchi I vestiti sporchi di un bourbon Sembra sangue Buono, bene Direi che l'effetto va bene Vision free Kodak Kodak È un color Mega Un film Colori 500 Isol E Toomstel Toomstel È una maglietta In un certo senso sì Parola Che è situata dentro un sacchetto vero Straggo lentamente la parola e metto E chiudo la confezione Per evitare di perdere Una volta che l'hai caricato qua Se lo giri Perché adesso non è finito Bisogna girarlo dall'altra parte E farlo andare a finire Tipo le multicassette Sì Vedete hanno due rolle Una è da una parte Quindi apro la seconda Una sezione Vedi? Qua non ha importanza Se tipo è esposta la luce Perché tanto Tutto quello che fai passare Non viene registrato Non registra niente Ci sono 120 metri di film Quindi? 10 minuti Quattro Quattro ehi ehi ok ehi 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 ok ehi it it and 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 ok but Grazie Grazie Sei ok? Che cosa stia? Grazie Grazie Facciamo la faccia da barbone Ancora no No la faccia no Però dai vestiti? Vestiti abbastanza Vai Adesso ci stiamo muovendo Un'altra volta che ho detto prima Fino adesso abbiamo registrato le prime parti La prima parte No proprio la prima parte La prima spiegazione in italiano Siamo finito di registrarvi Ma come sto? Bene E' in camera Quindi quando lui si sveglia Bla 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 Adesso stiamo andando al centro Cioè ci stiamo spostando Verso un'altra location Dove servirà la panchina E il resto Ok Ciao James I'm sitting down there I'm there In corner Sorry Sì, sì. Sì, e se vuoi che vuoi tirare l'interno è blu, perché l'interno è blu, senza filtra. Oh sì, sì. Non lo so. Non lo so. Un piccolo inconveniente di produzione, c'è stato un piccolo incidente con il bicchiere, però... ...è, è un piccolo. È un piccolo. C'è un piccolo, ma... Sì, è un piccolo. Sì, è un piccolo. È un piccolo. Sì, è un piccolo. È un piccolo. Ci è un piccolo. Ci sono sempre in un piccolo. È un piccolo. È un piccolo. Lo so, non si è un piccolo. No metto ragazzi. Saluta. la vita non la vita non c'è come piena cosa o c'è la terra di pista se lo so subito è il tango paolo Siamo bene Siamo con la gara Con la gara come fisco su questo hi fantastic è certo? questa è anche Oh, non svegli, eh! Ho avuto un culo della madonna per questo foglio e ho detto Ma cosa ti faccio il nuovo porto? Potrebbe servire, non mi butta uno fuori a calci Cioè uno allora non frega anche un video col telefono? No, lo sai No 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 Succa 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 Mm Ah C'è il giro di nuovo? C'è il giro di nuovo? C'è il giro di nuovo? Si Oh, scusate Vabbè che è? E' automatico la ripresa Dovr'altra foto Ok, ok, ok Ok, ok 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 Ahahahah Do you know what that is? It's green toot colouring, red toot colouring Two bags of sugar So that's basically honey A small bit of water and coffee I'm going to go 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 Select from the widest range of leading phones And this week only will give you 100€ Of an iPhone 6 For Samsung Galaxy Essage When you switch to Vodafone Bill Pay You don't want to put it No, you can't put it Because it's my friend I'm going to put it in my eyes I'm going to put it in my eyes I don't remember There's only one Jersey guy Where is that from? What kind of is that out? Code fiction No, come on We don't know Good Irish movie Come on, think Roddy Doyle film The fan You're the only one in the fan The chip shop Oh, yeah He says yeah What do you want to know? Well, I'm asking him Like this, do you want me to be angry? Yeah Because You want to be assertive? Yeah, because he's a lazy bastard Yeah He's late all the time So it's not acceptable that you just do that, okay? Show me I'm just showing you I'm actually This is it You know, get your act What more do you want me to say to him? What? I feel okay Where were you yesterday? You're not the breaking leg Like Jerry yesterday Broke his kneecap Did he? Fuck me up now for the next eight weeks James Yeah Where were you this morning? I was here Jerry What's on the ship? This is Get to the table Yeah Yeah Do you listen to me? Yeah, yeah Nine o'clock we start in this office Good? Yeah Let's go Let's go Sure Wait a second Wait me one second Before you arrive Before you arrive Okay Open all of them Two 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 One Two 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 Three Grazie a tutti